Musica Litiga a parole con un uomo e non soddisfatto della conclusione del diverbio, torna a casa, si arma di fucile a canne mozze e lo cerca per minacciarlo a mano armata. Accusato di minacce gravi con fucile, è finito in manette Giuseppe De Santi, 54enne di Francavilla Fontana, dove ieri pomeriggio si sono svolti i fatti. Teatro delle accuse, la centralissima via Garibaldi nei pressi di un noto bar della città degli imperiali. Di Santi, dopo aver litigato con un'altra persona, è tornato alla sua abitazione, si è armato di una doppietta con canne e calcio tagliato e ritrovando l'uomo con cui aveva litigato laddove si erano lasciati, avrebbe iniziato a minacciarlo. Sono stati alcuni passanti a chiamare i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana al comando del capitano Nicola Maggio, che sono arrivati subito sul posto, anche se il 54enne armato si era ormai dato alla fuga. Raccolte le testimonianze della gente e visionate le immagini di videosorveglianza della zona per identificare l'uomo e ricostruire quanto era accaduto, i militari hanno individuato Di Santi e lo hanno rintracciato per le vie di Francavilla Fontana. Al momento dell'arresto non aveva con sé il fucile, l'arma è stata poi rinvenuta dai militari avvolta in una busta e gettata tra il marciapiede di un'autovettura proprio nei pressi del bar Teatro del Litigio. Di Santi, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per minacce gravi con fucile e dopo le formalità di rito per lui sono stati disposti di arresti domiciliari. I carabinieri hanno anche sequestrato 16 cartucce del fucile a canne mozze.